La vita è la tragica fine di Maurizio Arena. Benvenuti nel nostro canale dedicato all'attore italiano Maurizio Arena. In questa serie di video esploreremo la vita, la carriera e le interpretazioni indimenticabili di questo talentuoso artista. Dai suoi primi passi nel cinema agli applausi del pubblico, Maurizio Arena ha lasciato un'impronta duratura nel panorama cinematografico italiano. Uniscite a noi mentre ripercorriamo la sua storia e celebriamo il suo straordinario contributo all'arte dello spettacolo. Se sei un amante del cinema italiano e vuoi conoscere meglio uno degli attori più affascinanti del suo tempo, allora sei nel posto giusto. Preparati a immergerti nell'universo di Maurizio Arena e a scoprire il suo incantevole talento sotto una luce nuova. Maurizio Arena è nato il 5 dicembre 1933 a Roma, in Italia. Cresciuto in una famiglia di artisti, suo padre era il famoso compositore e direttore d'orchestra italiano Gianni Ferio. Fin da giovane, Arena ha mostrato interesse per le arti dello spettacolo e ha sviluppato una passione per il teatro e il cinema. Durante la sua adolescenza Maurizio Arena si è dedicato allo studio della recitazione e ha frequentato la scuola di recitazione di Renato Raschel a Roma. Qui ha affinato le sue abilità recitative e ha iniziato a lavorare come attore teatrale, esibendosi in diverse produzioni locali. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto una svolta significativa quando è stato notato da un regista cinematografico italiano. Ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 1954 all'età di 21 anni nel film La spiaggia diretto da Alberto Lattuada. Sebbene il suo ruolo fosse relativamente piccolo è stata la sua prima opportunità di mettere in mostra il suo talento davanti alla macchina da presa. La carriera di Maurizio Arena nel mondo dello spettacolo è stata ricca di successi e di una vasta gamma di ruoli interpretativi. Dopo il suo debutto cinematografico negli anni 50 ha continuato a lavorare con alcuni dei registi più importanti del cinema italiano. Negli anni 60 e 70 Maurizio Arena è diventato uno dei volti più popolari del cinema italiano. Ha dimostrato una grande versatilità recitando in diversi generi cinematografici tra cui commedie, film polizieschi e avventure. È stato particolarmente abile nel combinare il suo fascino magnetico con il suo talento attoriale riuscendo a conquistare il pubblico con ruoli sia drammatici che comici. Uno dei film più noti di Arena è Il sorpasso 1962 diretto da Dino Risi. In questo film ha interpretato il ruolo di Roberto Mariani, un giovane timido che viene coinvolto in un'avventura stravagante con un uomo più anziano interpretato da Vittorio Gassman. Il film è diventato un classico del cinema italiano e ha contribuito a consolidare la carriera di Arena come attore di successo. Oltre al cinema, Arena ha avuto una carriera prolifica anche in televisione. È apparso in molte serie televisive di successo tra cui La Piovra e Raccontami. Ha dimostrato ancora una volta le sue capacità di adattamento interpretando una varietà di personaggi che hanno catturato l'attenzione del pubblico televisivo. Nonostante la sua carriera sia stata segnata da un tragico incidente automobilistico nel 1976 che lo ha costretto a un periodo di convalescenza, Arena ha dimostrato una straordinaria forza di volontà nel tornare a recitare. Ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo fino alla sua prematura scomparsa nel 1979, lasciando un'eredità a duratura nel cinema italiano. Maurizio Arena è stato un attore talentuoso e apprezzato, con un carisma unico che ha affascinato il pubblico. Le sue interpretazioni memorabili e la sua dedizione alla sua arte lo hanno reso una figura iconica del cinema italiano. Maurizio Arena è stato sposato con l'attrice Francine Rasset, con cui ha avuto due figli, Giorgio Arena, nato nel 1961, e Massimo Arena, nato nel 1965. Entrambi i figli hanno intrapreso la carriera artistica, seguendo le orme dei genitori. Tuttavia, non ci sono ulteriori dettagli disponibili sulla vita familiare di Maurizio Arena. È noto che Arena fosse un uomo riservato e discreto. Non amava parlare molto della sua vita privata con la stampa o il pubblico, preferendo concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua arte. Era noto per la sua dedizione al lavoro e per il suo impegno nel creare personaggi memorabili sullo schermo. Tuttavia, è importante notare che la sua carriera e la sua vita personale sono state segnate da un grave incidente automobilistico nel 1976, che lo ha gravemente ferito e lo ha costretto a un periodo di riabilitazione. Questo incidente ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e sulla sua carriera, ma Arena ha dimostrato una grande determinazione nel tornare a recitare, nonostante le difficoltà fisiche. Purtroppo, Maurizio Arena è deceduto il 21 novembre 1979, a soli 45 anni, a causa di un infarto. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano, ma il suo talento e le sue interpretazioni rimarranno un ricordo indelebile per i suoi fan e per gli amanti del cinema. La notizia della sua morte ha suscitato un grande impatto nell'industria cinematografica italiana, poiché Arena era considerato uno degli attori più talentuosi e promettenti della sua generazione. La sua prematura scomparsa ha interrotto una carriera in continua ascesa e ha privato il cinema italiano di un talento straordinario. Se sei un appassionato del cinema italiano e desideri scoprire di più sulle opere di Maurizio Arena ti invitiamo a seguire il nostro canale. Clicca sul pulsante di iscrizione qui sotto per non perderti i nostri prossimi video dedicati all'attore e ai grandi talenti del cinema italiano. Resta connesso per rivivere i momenti indimenticabili che hanno caratterizzato la carriera di Maurizio Arena e per esplorare il suo straordinario contributo all'arte dello spettacolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.